Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Scendono ancora in Toscana i contagi da coronavirus Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 97 nuovi casi da Covid-19 Il sindaco di Firenze Dario Nardella fa filtrare che proseguirà ovviamente l'obbligo della mascherina Mentre non sarà così per quanto riguarda l'utilizzo dei guanti Curiosa retroscena rivelato dall'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual Che ha dichiarato come nel 2009 fosse stato vicino al passaggio ai rivali della Juventus Successivamente saltato Per fare un tuffo nel passato con importanti accenni sul presente Sul nostro sito potete trovare un'intervista esclusiva all'ex attaccante gigliato Emiliano Bonazzoli Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola